Ecco a voi ciò che accadrà il 30 luglio 2011 alla presentazione di questa nuova specie animale. Denominata homines metropolitanes, in gergo The Metropolitans, è caratterizzata da sguardo leonino e ruspante cupidigia. Alla ricerca di nuove prede sono soliti violentare i propri strumenti, credendoli giovani appartenenti al genere femminile della loro specie. L'accoppiamento si svolge in due fasi. Nella prima i metropolitans avvinghiano la preda con i loro potenti arti. Nella seconda fase, da soli o in gruppo, si dirigono verso la malcapitata e la possiedono avidamente. Ma nella maggior parte dei casi l'accoppiamento ha la durata media di pochi secondi. Qualcuno giura tuttavia che siano sufficienti per dar prova della loro accesa virilità. Se non vieni al casello il 30, alla presentazione del loro album, ti perdi uno spettacolo, soffri di inferiorità e soprattutto...